Allora, Daniele Bossari, my friend, ti seguo dai tempi di Mediaset, Rai, Fuego, Top of the Popster, qualunque c***o abbia fatto, senza ombra di dubbio, li rendevi un programma leggermente migliore, a parte tipo la fattoria e sta c***o, giusto? Però vabbè, ora io dico, hai fatto quella merdata di, vieni da noi c***o, ti aspettiamo c***o, come direbbe Peter Griffin, c***o, ti aspettiamo, fai una c***o di ginplotti con noi, noi facciamo una reaction al mistero di un qualsiasi video che tu voglia, tanto di complottismo in misterio, ne avete visti tanti, quindi ti aspettiamo, facci sapere, taggatelo nei commenti, su Instagram, su Facebook, ovunque vi pare, e fateci sapere, speriamo che Daniele Bossari ascolti il mio messaggio soprattutto. Ti aspettiamo e questo era Ginplotti, il decimo episodio, e alla prossima!